Iniziamo con il nostro Samsung Dauda che ha pubblicato questo comparison tra l'anno scorso e quest'anno sempre in prep tre settimane prima L'Arnold Classic è ovviamente 2023, devo dire che come ho detto in un altro video secondo me la cosa migliore di Samsung a questo Arnold sarà la definizione Secondo me migliorerà molto rispetto all'Olimpia e c'è da dire anche che la foto di sinistra fatta l'anno scorso ha delle luci peggiori rispetto a quella del 2023 C'è un'illuminazione molto superiore nella foto a destra però va da sé che la definizione sia anche su Instagram anche a occhio nudo in un video in una foto superiore Penso che non occorra capire molto di bodybuilding per vedere che il bodybuilder a destra sia superiore di quello a sinistra La definizione è superiore nella parte bassa ma anche nella parte alta si vedono dei dettagli secondo me superiori Oltre che mi sembra una parte bassa della schiena, una zona lombare un po' più densa e un po' più sviluppata Poi chiaramente le luci sono importantissime nel bodybuilding anche in una foto per Instagram Però va da sé come ho già detto che sia ovvia la superiorità del bodybuilder a destra rispetto a quella a sinistra Quindi mi aspetto un Samson nella sua migliore condizione a questo Arnold Classic Superiore sicuramente a quello che abbiamo visto al Mr. Olympia due mesetti fa Io credo che possa ambire addirittura un secondo posto se si gioca bene le sue carte Perché non penso che potrebbe avere problemi a battere un Sean Clarida o un Andrew Jack Perché Sean è più basso e Andrew Jack in genere è meno definito Non l'abbiamo mai visto particolarmente definito E anche negli aggiornamenti che sta pubblicando non mi pare così tanto definito In più non posa in maniera eccezionale L'unico ostacolo secondo me potrebbe essere Big Rami per arrivare secondo Dando per scontato il primo posto di Nick Walker si intende Big Rami che dopo un periodo sabbatico diciamo da Instagram Che è durato da pre-Mr. Olympia a tre giorni fa praticamente Ha iniziato a pubblicare aggiornamenti come faceva prima del Mr. Olympia Dove è stato davvero continuo negli aggiornamenti che ha fatto vedere Poi dopo il Mr. Olympia è sparito e ha iniziato questo procedimento medico Per quel che riguarda le cellule staminali Ne ho parlato anche qualche video fa dove ho appunto parlato di questo mistero di Big Rami Che adesso ha iniziato come detto a pubblicare aggiornamenti La sua gamba vista lateralmente è una delle migliori sul circuito Se non la migliore attualmente o comunque a prescindere dai suoi problemi fisici I glutei sono ottimi, i femorali sono ottimi, i quadricipiti sono ottimi E visti lateralmente non sono così sproporzionati Il colpo d'occhio è fantastico della gamba laterale di Big Rami Anche al Mr. Olympia di qualche mese fa In più ho pubblicato un'altra storia dove ha taggato Chad Nichols E fa un back last spread E devo dire che è un'ottima posa Chiaramente il problema di Rami secondo me è anche il fatto che non sia denso Nelle pose posteriori, nella schiena Quando si mette lateralmente c'ha la schiena piatta come un muro Non so quale sia il problema E sto tralasciando anche il discorso del buco Nella parte bassa della schiena E Chad Nichols qualche giorno fa ha pubblicato come detto anche Questo back double bias Per vediamo il solito buco centrale Qualcuno ha detto che sia migliorato Io non lo so se queste cellule staminali possano fare miracoli in due mesi Cioè non lo so se in due mesi ci può essere un cambiamento così radicale di Rami Io spero di vedere un Rami superiore all'Arnold rispetto all'Olympia Ci conto, poi chiaramente ha pubblicato anche questo aggiornamento abbastanza strano Dove fa il passo del pollo come l'ho definito io E qui mi hanno criticato per aver definito questa strana passeggiatina laterale Come passo del pollo Ma come la vogliamo definire questa caffonata Comunque mi auguro di vedere un Rami al top all'Arnold Classic Dulcis in fundo Il nostro Ramondino o piccolo Raimondo Che deve gareggiare all'Arnold Classic anche lui Ma nella categoria Classic Savas Sandir Pubblica qualche giorno fa questa posing routine Dove è anche coadiuvato da Rafa Brandao Lui e Ramondino sono i bodybuilder di punta del Brasile I brasiliani immagino che pensino che debbano vincere entrambi il Miste d'Olympia Perché i brasiliani sono un po' fuori di tesa per quanto riguarda il tifo Io non sono un tifoso in generale Non mi piacciono i tifosi Secondo me bisogna essere obiettivi quando si parla di qualsiasi cosa Piscina che sia bodybuilding, sport, musica eccetera 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 Comunque Ramon mi piace Io credo che abbia bisogno di più dorsali Un fisico classico ha bisogno di dorsali Soprattutto vita stretta, spalle larghe E dorsali che diano continuità E che incentivino le spalle Perché il bodybuilding è anche un'illusione ottica Uno non può avere le spalle larghe, la vita stretta Ma non aveva i dorsali Soprattutto nel Classic Secondo me Poi per il resto ha delle braccia un po' troppo dominanti Vedete anche rispetto alla schiena Soprattutto alla parte bassa della schiena Il trapezio è buono Ma i dorsali hanno bisogno di più lavoro Braccia in generale Spalle, bicipiti, tricipiti e avambracci Sono fantastici Ma c'è bisogno di più lavoro Secondo me nei dorsali Perché per il resto è un ottimo bodybuilder chiaramente Ma un bodybuilder così Non batterà mai un Chris Bumstead Che gli è superiore in tutto Tranne che nei cappelli ormai Penso che vincerà tranquillamente Quest'Arono Classic In virtù anche del fatto che sia arrivato Secondo al Mister Olimpia Questo vuol dire che Non c'è altra gente più in alto di lui A parte Chris Nelle gerarchie del Mister Olimpia E del Classic Physique in generale Io penso che sia un ottimo bodybuilder Forse un po' troppo sopravvalutato Mi pare che una delle sue qualità migliori Sia la capacità di definirsi molto bene Ci sono bodybuilder che non hanno questa capacità A prescindere che siano Classic O Open E qui rivediamo un po' Tutte le pose di Ramon Vedete quanto siano sviluppate Le braccia e gli avambracci E qui di nuovo la schiena I glutei sono già abbastanza definiti Guardate la parte bassa Della schiena Ci sono meno dettagli C'è meno densità Io credo che ci sia bisogno Di lavoro E ovviamente non lo sto screditando Perché spesso io parlo E qualcuno mi ha detto Che io ripeto molto le cose Ma le ripeto perché mi sono abituato Che come detto La gente non capisce quello che dico Quindi se io Trovo un difetto Tra virgolette A Ramon Allora lo sto denigrando Lo sto processando Sto chiamando la polizia Dei sentimenti Non è così C'è bisogno di Essere chiari E siccome la gente non capisce Ripeto Molto spesso le cose Comunque Ottimo Ramon Sono sicuro Che farà bene L'Arnold Classic Fatemi sapere Che ne pensate Di Samson Dauda Se pensate Che possa arrivare Addirittura secondo O che si debba Contentare di un terzo Di un quarto posto E Anche Dei misteri Misteriosi Di Big Rami Buona Grazie a tutti